Ciao a tutti. In questo video vorrei parlare del moto del centro di massa. Vedremo in realtà la posizione del centro di massa e il moto del centro di massa. Per ogni sistema di punti materiali, che possiamo definire particelle in generale, si può definire un punto geometrico particolare detto centro di massa. In realtà ho già trattato del centro di massa nella playlist di fisica del primo biegno. Lascio quassù, in alto a destra, il link al video in questione. Il centro di massa è il punto in cui ipotizziamo sia concentrata tutta la massa di un sistema. Ora consideriamo il caso di due particelle, con massa m1 e m2, che si muovono ad esempio su una retta. A un certo istante di tempo le due particelle si trovano nei punti di coordinate, diciamo così, x1 e x2. Per definizione, la scissa del centro di massa di questo sistema formato dalle due particelle è data da questa formula, ovvero la posizione del centro di massa è m1 per x1 più m2 per x2 diviso m1 più m2, dove naturalmente m1 e m2 sono le masse delle due particelle. Cosa succede nel caso particolare in cui le due particelle hanno la stessa massa? È molto semplice. Mettendo in evidenza l'unica massa avremmo massa che moltiplica x1 più x2, a denominatore 2m, m e m si semplificano, ed ecco che avremmo questa relazione. E quindi in quel caso il centro di massa del sistema si trova nel punto medio tra le due particelle. Se le particelle hanno masse diverse, il centro di massa è più vicino alla particella di massa maggiore. Nel caso generale, quello in cui abbiamo n particelle, possiamo estendere questo discorso in questo modo, introducendo la sommatoria di tutti i prodotti i esimi. Questa scrittura, vi ricordo, vuol dire è la sommatoria per i che va da 1 a n di mi per x i, che vuol dire m1 per x1 più m2 per x2 più eccetera eccetera, cioè quello che c'è scritto qui, fino ad arrivare a mn per xn. Tutto diviso per la somma di tutte le masse che possiamo indicare genericamente con m. Analogamente, se ci muoviamo nel piano, possiamo definire anche una posizione y, che si definisce ovviamente in maniera del tutto analoga, come abbiamo definito la x del centro di massa. Se la risultante delle forze esterne che agiscono su un sistema è nulla, e quindi la quantità di moto del sistema si conserva, il centro di massa del sistema compie un moto rettilineo uniforme. Quindi, se la risultante delle forze è zero, sappiamo che non abbiamo accelerazione del centro di massa, dalla seconda legge della dinamica, questo implica che la velocità del centro di massa è costante, e che quindi è costante la quantità di moto totale del sistema, pertanto abbiamo che la velocità del centro di massa è data dal rapporto tra la quantità di moto totale del sistema e la massa totale del sistema. Pertanto, la velocità del centro di massa è data da questa formula. Se qui abbiamo la quantità di moto totale, vuol dire che abbiamo la somma di tutte le quantità di moto, m1 v1, m2 v2, eccetera eccetera, e qui ha a denominatore la somma delle masse. Quindi, in generale, scriviamo il simbolo di sommatoria dei termini m1 v2 diviso la massa totale. In effetti, vediamo che se ora qui noi moltiplichiamo entrambi i membri per la massa totale, otteniamo massa totale per la velocità del centro di massa è uguale a questa sommatoria, ma questa sommatoria non è nient'altro che la quantità di moto 1 più la quantità di moto 2, eccetera eccetera, cioè la quantità di moto totale del sistema. A questo punto, però, se su un sistema agisce una forza esterna risultante diversa da zero, beh, il moto del centro di massa non è più rettilineo uniforme, perché se la risultante delle forze esterne non è nulla, il centro di massa accelera, e l'accelerazione del centro di massa è data da questa relazione. Se moltiplichiamo entrambi i membri per m, abbiamo proprio massa per accelerazione che è una forza, e in effetti qui abbiamo tutti i vari contributi delle varie forze, una f1, una f2, una fn, eccetera eccetera, e questa è la forza totale, per cui abbiamo determinato le coordinate del centro di massa, quindi la sua posizione, e infine la velocità del centro di massa e l'accelerazione del centro di massa. E ora vediamo un problema. Due pattinatori di massa m1 e m2 sono fermi abbracciati al centro della pista, poi partono con velocità rispettivamente di 3 e 2 metri al secondo nella stessa direzione ma in verso opposto. Determiniamo la velocità del centro di massa del sistema costituito dai due pattinatori. Questi sono i dati per quanto riguarda il primo pattinatore e questi sono i dati per il secondo pattinatore. I due partono con velocità in verso opposto, pertanto indichiamo la 1 positiva e la 2 negativa, o possiamo fare ovviamente anche al contrario. La velocità del centro di massa è quindi la somma di m1 v1 più m2 v2, cioè delle due quantità di moto, diviso la somma delle due masse. Questo non è nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto per quanto riguarda la conservazione della quantità di moto m1 v1 più m2 v2, ma in questo caso per determinare la velocità del centro di massa questa quantità di moto totale abbiamo visto la dobbiamo dividere per la massa totale del sistema. E nello specifico vediamo che otteniamo una velocità pari a 0. Potevamo aspettarci questo risultato? Consideriamo che il sistema è isolato e i due pattinatori inizialmente erano fermi. Pertanto se la quantità di moto di tutto il sistema era 0, sarà 0 anche la quantità di moto finale del sistema e per avere ciò dobbiamo fare in modo che la velocità del centro di massa del sistema rimanga 0. Quindi il centro di massa rimane fermo, mentre i due pattinatori si muovono. Vediamo un secondo problema. Due punti materiali si trovano sull'asse X di un sistema di riferimento. Il primo amassa 5 kg e occupa la posizione 3 metri. Il secondo amassa 2 kg e occupa la posizione 17 metri. Determina l'ascissa del centro di massa del sistema formato dai due punti materiali. Possiamo scrivere la formula della posizione del centro di massa per quanto riguarda l'ascissa. Dopodiché andremo semplicemente a sostituire i valori. Facendo i conti otteniamo 7 metri. Ragazzi spero che questo video vi sia stato utile. Non dimenticate di lasciare un like, condividete l'esistenza del canale. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!